Oggi per TV Technology siamo all'interno di un'azienda che si occupa di automazione. Quello che sembra uno strano, forse uno struzzo elettronico, in realtà è un'apparecchiatura che a cosa serve? Un'automazione strana, a cosa serve? È un robot industriale, diciamo qua lo vediamo abbinato appunto al nostro brevetto, il nostro prodotto flexible, è un sistema di visione che è quello che gli permette di localizzare e andare a prendere gli oggetti. I robot sono applicati diciamo in tantissimi processi industriali, in particolare fa impressione la sua intelligenza nel vedere gli oggetti, nel riconoscere appunto gli oggetti prendibili, diciamo intelligenza appunto che è data in parte dall'occhio artificiale che è il sistema di visione. Il robot in generale sono applicati appunto in tantissimi settori, in particolare noi siamo interessati ai processi di assemblaggio ma anche di confezionamento, creazione di kit, imbustamento e tanti altri ancora. Praticamente questa macchina serve per nutrire il robot di assemblaggio? Esattamente, questa macchina, questo insieme di componenti dato dal nostro prodotto, dal robot e dal sistema di visione serve per asservire le macchine automatiche. Questo è il nostro brevetto che ci è stato concesso nel 2011, un brevetto internazionale quindi che copre oltre 40 paesi nel mondo. Chi sono le persone che lavorano con voi? Sono ragazzi per lo più giovani, estremamente motivati a seguirci in questa nostra missione, quindi di portare un po' di tecnologia retina in giro per il mondo. L'attività è nata a metà degli anni 90 come eravamo l'ufficio di una primaria società americana di robotica che risiedeva nella Silicon Valley. Il contatto è nato proprio dalle esperienze di meccanica di precisione operando all'interno di uno dei primari gruppi orafi a retini. Da lì è nato il contatto con questa società californiana per cercare di portare questa esperienza sulla meccanica di precisione fuori dal settore orafo e da lì poi allargata tanti settori così. Diciamo che è stata un'opportunità abbastanza unica di toccare, andare a vedere settori totalmente diversi. Quello che noi abbiamo fatto negli ultimi anni è stato proprio lo sviluppo di un sistema flessibile di alimentazione che ha servito al robot, permette di creare soluzioni molto, diciamo, soluzioni flessibili, pronte all'uso in tempi molto rapidi che si adattano facilmente ai cambiamenti di produzione e che rispecchiano quella che è l'esigenza attuale nel mondo dell'automazione. Stiamo visitando l'azienda, abbiamo visto molte persone al lavoro, molti giovani, sono tutti davvero veramente molto, molto giovani. Che reparto è questo? Diciamo qua siamo sul suolo produttivo, quindi dove vengono poi realizzati i nostri prodotti. Appunto Arts abbiamo visto precedentemente il nostro prodotto, il nostro brevetto Flexible, ma offre un servizio più esteso alle aziende, quindi partendo proprio dai requisiti dei loro processi, in grado di realizzare delle soluzioni customizzate. Qui entra in gioco a un ruolo importante il nostro ufficio tecnico, appunto, che si occupa della progettazione di queste macchine, appunto raccogliendo le esigenze dei nostri clienti, per poi seguire la commessa in tutte le sue fasi, quindi dal setup all'installazione. Qui stiamo vedendo, diciamo, le fasi di montaggio, quindi quelle che precedono la messa appunto del macchinario. C'è un passaggio generazionale, mi sembra soddisfacente. Certo, certo. Ma diciamo questa è una bella cosa, no? Perché oggi, diciamo, da un lato l'esperienza è fondamentale, però altrettanto in un mondo globale così, e poi questa esperienza per poterla mettere a frutto c'è necessità di comunicarla, farla conoscere ai potenziali clienti che sono, non sono clienti locali, ma sono ovunque, e sicuramente, diciamo, le nuove leve che hanno molta familiarità con il mondo dell'informatica, dei computer, con internet, i mezzi social, diciamo, sono più facilmente, si adattano molto bene, soprattutto nella comunicazione, nel marketing, che sono aspetti, diciamo, che per un'azienda meccanica, almeno fino a qualche anno fa, non erano tenuti sufficientemente in considerazione, mentre invece per poter promuovere, poter far conoscere quello che si fa, diventano fondamentali. Noi abbiamo un dipartimento interno, appunto, di ricerca e sviluppo, che siamo, diciamo, interessati sempre a crescere, a potenziare, perché è proprio il cuore pulsante dell'azienda, quindi tutte le attività, anche di cui parlava mio padre prima, la comunicazione e il marketing, hanno un senso solo se c'è alla base un prodotto che valga la pena di essere raccontato, per cui siamo sempre alla ricerca di nuove risorse tecniche, in particolare ingegneri, che possono essere informatici o anche elettronici o meccanici, che, ecco, possono accompagnarci in questa missione di continuare a sviluppare quello che è la nostra visione del futuro dell'automazione industriale. Questa è un'altra testimonianza, appunto, di un'azienda che sta cercando personale, personale qualificato in tecnologia, perché è il futuro.